dal libro del profeta ezechiele così dice il signore dio se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso gli osserva tutte le mie leggi agisce con giustizia e retitudine egli vivrà non morirà nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata ma vivrà per la giustizia che ha praticato forse che io piacere della morte del malvagio oracolo del signore o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette potrà egli vivere tutte le opere giuste da lui fatte e saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso egli morirà voi dite non è retto il modo di agire del signore ascolta dunque casa di israele non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore egli muore appunto per il male che ha commesso e se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto egli fa vivere se stesso ha riflettuto si è allontanato da tutte le colpe commesse egli certo vivrà e non morirà per la vostra per la vostra al prossimo Grazie.